ciao a tutti raga sono il capo alex e oggi dimostrerò come disattivare l'arcinemico dell'utente windows che scarica torrent windows defender non c'è nulla che posso dirvi se non guardare le istruzioni allo schermo ps alla fine vi dico di mettere un 1 in una chiave di registro il significato dell'uno per disattivare defender se mettete zero rimane attivo buona visione iscriviti al canale grazie a tutti